...che sentono, in verità vi dico, molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi vedete e non vivono, e ascoltare ciò che voi ascoltate e non vivono. Allora del Signore, gloria a te, oh Cristo! Sia lodato Gesù Cristo, il cuore sempre sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo, il cuore sempre sia lodato. Non fa sperimentare la sua predità, ci fa sperimentare come è il Dio, che è il Dio buono e giusto, non fa mancare mai la sua presenza discreta, silenziosa nella nostra vita. e anche se dovessimo attraversare il mondo in cui la valle del dolore la valle oscura ecco noi siamo chiamati a non tenere il palco mare perché il Signore è sempre con noi e benché i nostri occhi non possano vedere fisicamente, tangibilmente senza sentire il bello il suo orto noi siamo andati a vedere la presenza di Dio cioè a fare studienza di cui Dio incontriamo con tale misericordia che non manca di offrire la sua differenza la sua dolce carezza di cuore su ciascuno di noi persone, le nostre necessità e le nostre bisogni e tutto ciò che è dal voto dalla nostra vita che ci fa perdere la forte e con l'unità ed è pericolato di aiutare Dio con tutto il cuore per ascoltare la sua voce quella voce che ci dimora che ci dimora ma non tenere ad avere fiducia in lui molti profeti giusti hanno disegnato vedere ciò che voglio vedere dice il Signore talvolta nel nostro libro mi vorremmo vedere quasi dei seri incontro del Dio di una presenza che zintisca avanti ma non parla ma scroposto e talvolta e talvolta saremo tentati di dire al Signore e al Signore se tu commessi un miracolo in segno dove tutti possano vedere tutti possano in maniera tangibile avere contezza della tua presenza avere la certezza che tu ci sei penso di un problema della fede si risolverebbe immediatamente all'istante Gesù ci invita ad avere fede al di là di ciò che noi vediamo si conclude il Vangelo è una delle ultime espressioni sulla bocca di Gesù che ci lavano gli evangelisti in modo particolare l'Evangelista Giovanni e con l'istituzione di Beate a quelli che tu non avendo visto crederanno e allora al di là di richiedere qualche segno da me vogliamo chiedere al Signore una fede a tutta prova che possiamo realmente essere di quei credenti che sono anche credibili nella testa di mananza e nella carità perché hanno fatto esperienza vita di un Dio vivo al di là di ciò che i nostri occhi vengono o possono ancora non aver visto le altre perché pur non avendo ancora visto continuerà a credere e per questo è il grido che il Signore oggi rivolge in maniera sensuosa il nostro cuore perché si sveglie perché possiamo aprire gli occhi del nostro cuore e possiamo fare esperienza di quel Dio che ci invita a continuare a credere anche quando ancora non abbiamo visto il continente di Ponte della Sua abbiamo dichiarato come un mandorante del Salmo responsoriale abbiamo detto al Signore con una fiducia tu sei fedeo del tuo promesso Signore abbiamo dichiarato che il Signore è fedeo del tuo promesso e anche se talvolta vediamo come si attardano i tempi e sappiamo che i detti del Signore rivolzò i nostri detti il Signore porta sempre al movimento della Sua e la mandorale di relazioni sono grandi di fede vogliamo fare una fiducia e civiltà dall'Evigenza Santissima da vero comunque cosa e gli dedicati a fare dobbiamo concludere con la testimonianza che oggi in molte del Sant'Anno che ci sanno nella nostra terra in Italia che è colpito particolarmente da giovani sacerdote una famiglia che andava a ringraziare la Vergine Santissima per il dono di uno scampato pericolo in una notte si era verificato con un centone che la loro casa avevano persurto avevano tutto distrutto ma proprio mentre stavano cercando di uscire da casa si apporsero che uno dei figli di questa famiglia avevano tre figli il più piccolo era rimasto sopra questo bambino Gregato è venuto che si accacciò dalla finestra della lenzata e e i genitori gridavano butta di gioco quel bambino verde il fumo e le fiamme rompeva la mano e gridavano ma io non direi ma e la mamma disse ma io direi butta di gioco forse anche no che vogliono le nostre mutate siamo prezzi da fiume da fiume e ci interiscono di bere quella mamma che ritornerà ad abbracciarci solo che non si mangiò di vedere su abbracciarci dell'abbracciarci dell'abbracciarci e di tornare a nascere le grazie avevano perso il gioco ma avevano imparato la finisce quelle forse che non dobbiamo riniterare e realizzare città un abbandono totale nelle braccia di sovrattutto nei momenti in cui non vediamo la velocità perché gli possa fare le strade dove non ci immaginiamo perché gli possa dire in questo anche quando non viene una soluzione naturale a quelle situazioni militari che tra loro accompagnano la nostra vita vogliamo rivolgere il nostro grazie signor di tutte le cose che hanno stranizzato l'unità ci ha abbracciato ci ha porto nelle braccia e le lezioni ci ha portato e ci ha portato il Dio che ci ha il Dio che è il Dio la vita e l'onore e l'onore nel che ci sono nel segno e nel segno am Grazie.